Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video Oggi andiamo a vedere come ottenere buoni Amazon gratuitamente Allora, allora Come prima cosa dobbiamo andare a scaricare un'applicazione Che tra l'altro è l'applicazione che ho realizzato io insieme a mio collega Alessandro Che magari alcuni di voi già la conosceranno Si chiama Tap Game E potete andarla a scaricare direttamente dal Play Store E questa applicazione vi permetterà di ottenere in maniera gratuita Buoni Amazon, buoni Google Play, altri tipi di buoni d'acquisto E moltissimi prodotti tecnologici Quindi andiamo subito a vedere come scaricare questa applicazione Andiamo nel Play Store Andiamo a digitare Tap Game Ok, è la prima che vi esce appunto La prima che vi uscirà è Tap Game AD Technology Quindi andiamo a scaricarla Una volta scaricata questa applicazione L'apriamo Ok Ci comparirà una piccola schermata che ci spiega appunto come funziona e che cos'è Tap Game Andiamo in fondo Facciamo skip Andiamo avanti Ok ragazzi Tap Game a questo punto vi dirà di scegliere il prodotto che volete vincere Potete scegliere dal prodotto giornaliero o prodotto settimanale In questo caso è attivo il prodotto settimanale Quindi avrà durata di una settimana Ci andiamo a cliccare sopra Ecco qui il nostro buono di acquisto In questo caso è online Quindi è attivo Un buono Google Play da 50€ Che potete vincere Come si fa per vincere questo prodotto? Allora Diciamo che voi avete tre partite giornaliere Ok? Tre partite al giorno Che potete usufruire Dopodiché dovete aspettare il giorno successivo Per averne altri tre Oppure potete acquistarle direttamente dallo shop Che vi farò vedere tra pochissimo Allora Innanzitutto diciamo che su Tap Game c'è una classifica Ok? E quindi il primo che arriverà in classifica Allo scadere del countdown Perché come potete vedere su Su Infopremio qui C'è un countdown che sta scorrendo Adesso mancano due giorni Un'ora e trenta minuti Quando questo countdown arriverà a zero Quindi scaderà il prodotto Il primo classificato Vincerà il premio Quindi in questo caso vincerà un buono Google Play Da 50€ Da utilizzare per tutte le applicazioni sul Play Store Quindi Per giocare E per partecipare Andiamo a cliccare su partecipa Ok ragazzi Dobbiamo fare una piccola sfida Bisogna appunto tappare Molto veloce sullo schermo In 45 secondi In questo caso perché ho preso Il bonus Ora vi farò vedere anche come poter acquistare Come poter usufruire del bonus giornaliero Di 15 secondi in più Perché se no Teoricamente di norma Il bonus è di 30 secondi Cioè il countdown è di 30 secondi E quindi diciamo È molto inferiore Se andiamo a prendere questo bonus Ci darà 15 secondi in più Si può prendere Ogni volta che vediamo la scritta in basso Otterrà il bonus Adesso ve la farò vedere Tra poco Un attimino che mi sto concentrando Per fare più tap possibili Diciamo che non sono andato molto bene Ok sono arrivato in questo caso 32esimo Su 2000 e passa persone Diciamo non male Bisogna diciamo allenarsi E cercare di vincere il prodotto Ok si può fare di prova O tornare appunto nella home Tornando nella home Il bonus di cui vi stavo parlando È questo bonus qui sotto Vedi ho ottenuto un bonus di 15 secondi Per la prossima partita Gioca ora Quindi una volta ogni giorno Cliccando su questo link Su questo link che vedete qui in basso Si possono ottenere 15 secondi in più Per fare la sfida del giorno Ok Quindi In questo caso io adesso ho ottenuto I 15 secondi Perché l'avevo già premuto Il link L'avevo già cliccato il link Quindi se io farò adesso Un'altra partita Vedrete che comincerà Con 30 secondi Infatti con 30 secondi Diciamo è la partita standard Che tutti quanti hanno E poi in più Si può avere appunto Questo bonus Questo bonus di 15 secondi In maniera gratuita Questo bonus purtroppo Si può prendere solamente Una volta al giorno Come possiamo vedere Qui c'è la sessione shop Ok Dove si possono acquistare Candown E partite extra Quindi O 10 secondi in più O 15 secondi in più Oppure si possono acquistare 5 partite O 10 partite Ok Quindi acquistando 15 secondi in più Avrete la possibilità Di Avete più possibilità Di arrivare Nella prima posizione Ok ragazzi Diciamo qui C'è anche una sezione Allenamento Che vi farà Allenare E giocare Quindi a tap game In maniera Gratuita Con 30 secondi Senza entrare appunto Nella classifica Potete fare L'allenamento Ogni volta che volete Non Sprecate assolutamente Le tre partite giornaliere E quando invece Volete giocare Per entrare in classifica Vi basterà appunto Andare su partecipa Ok Qui c'è sempre Cos'è tap game Se non vi è chiaro Un qualcosa E sotto in basso C'è anche la nostra mail Per scriverci Delle informazioni Se avete dubbi A riguardo Se volete Qualche informazione In più Potete contattarci Alla mail che avete trovato lì O anche Direttamente a Info Tapgame.it Rispondiamo direttamente noi E niente Quindi solamente questo Ragazzi Se volete È un'occasione Per vincere Diciamo Buoni d'acquisto E prodotti Tecnologici Perché adesso Inseriremo anche Diversi prodotti Diciamo Tecnologici Prodotti All'avanguardia Del mercato Dell'elettronica Dell'informatica Questo insomma E niente Qui Per fare Diciamo Dovete fare Inizialmente Che adesso Ero già logato Una piccola registrazione Ma niente di Importante Pochissimi dati E andate a confermare La vostra mail Il vostro account Sarà Direttamente Subito attivo E potete Giocare A Tapgame E vincere Fantastici premi Niente ragazzi Per questo video È tutto Che vi posso dire Andate A mettere un bel like Sulla pagina facebook Così potete seguire Tutti quanti i nostri Aggiornamenti Seguitemi anche Su instagram E scaricatela in tanti Queste applicazioni Così almeno Spargiamo un po' La voce E chiunque Può Ottenere Prodotti A bassissimo costo Magari spendendo Qualcosa Sullo shop O anche In maniera gratuita Se siamo Diciamo Veloci Con il ditino Ok Quindi Per questo video È tutto ragazzi Mettete un like A questo video Cerchiamo di Arrivare a 100 like Per questo video E noi ci vediamo Nel prossimo video Grazie a tutti